Ciao e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. In questo video voglio farvi vedere questo kit della Playmobil Country. È quindi un trattore con, vedete questo carrello, e vedo già queste grandissime palle di fieno. È il numero 6130 ed è per bambini dai 4 ai 10 anni. E vedete sul retro che abbiamo un trattore, un carrello, un uomo e due balle di fieno. Quindi in totale sono 45 pezzi e vediamo appunto come sarà e in quanti pezzi consiste. Ecco qua. Ah beh, guardate, il trattore è già praticamente fatto, è un pezzo unico, mancano praticamente solo le ruote. E questo deve essere direttamente un pezzo del nostro carrello, quindi del nostro cassone. E questa è decisamente la base per poter attaccare il nostro carrello al trattore. Qui ci sono vari adesivi e naturalmente le istruzioni, avete visto c'è anche la targa. Qui abbiamo il nostro contadino. E qua alcuni pezzi del trattore, come vedete le ruote, è etto con la pala. E qui il resto, quindi vedete le ruote più grosse e naturalmente le balle di fieno. Ed infine in questo ultimo pacchetto, ah ecco, mancavano le sponde del nostro carrello. Ed ecco qua. La scatola ora è vuota. E questo è quello che dovremo ottenere alla fine. Non vedo l'ora di farvi vedere nel prossimo video come potremo costruirlo insieme. E naturalmente, vedete, guardate, inizierò direttamente dal nostro trattore. E beh, direi quindi che non vedo l'ora di leggere quello che voi scriverete nei commenti riguardo a questa presentazione. E naturalmente, se avete voglia di vedere come costruire, guardate il prossimo video, abbonatevi al nostro canale e continuate a seguirci. Ciao!